Il gruppo di Reggio Calabria Tonino Foti ha rinviato a giudizio per corruzione il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Sicler, il dirigente comunale Francesco Morabito, il presidente della Caronte Turist Antonino Repaci e l'amministratore delegato della compagnia di navigazione Calogero Famiani. La decisione è giunta a conclusione dell'udienza preliminare del processo Cenide, nato da un'inchiesta che lo scorso dicembre ha portato il primo cittadino villese agli arresti domiciliari. La richiesta del PM Walter Ignazitto che ha coordinato l'indagine assieme al procuratore aggiunto Gerardo Domenianni e al sostituto procuratore Gianluca Gelso sono stati rinviati a giudizio quasi tutti gli imputati che hanno scelto il rito ordinario, compresa la stessa Caronte Turist, società che si occupa del traghettamento sullo stretto di Messina e che secondo la procura avrebbe violato la legge sulle responsabilità della società e degli enti. La vicenda al centro dell'inchiesta riguarda alcune presunte irregolarità riscontrate dai carabinieri in merito alla cessione della Caronte di un piazzale di proprietà Anas che sarebbe stata convinta dal sindaco Siclari a stipulare una convenzione con la comune di Villa San Giovanni. Irregolarità dietro le quali ci sarebbero stati diversi episodi di corruzione che adesso saranno oggetto del processo fissato per il prossimo ottobre davanti al Tribunale di Reggio Calabria.